A Campobasso la zona franca urbana non può essere allargata. È la replica motivata del sindaco della città Antonio Battista alla richiesta di allargamento all'area commerciale avanzata dal consigliere Gino Di Bartolomeo. Sentiamo. La zona franca urbana non può essere allargata. Così il sindaco di Campobasso Antonio Battista replica l'intervento del consigliere Gino Di Bartolomeo che aveva chiesto la possibilità dell'allargamento dei benefici di legge includendo la zona artigianale e commerciale della città. Qualora avessimo posto mano alla perimetrazione, aggiunge il sindaco Battista, avremmo perso del tempo prezioso di impedito la pubblicazione del bando con il serio rischio di perdere anche il finanziamento. Per questo, ha proseguito il sindaco Battista, abbiamo preferito lasciare la vecchia perimetrazione per velocizzare la fase del bando e mettere subito in essere i circa 6 milioni di euro che comporta l'avvio della zona franca urbana. Il bando, ricordiamo, è stato pubblicato il 4 maggio ed è in coro la presentazione delle domande. A tale scopo, la confesserciante Molise ha predisposto anche uno speciale sportello di aiuto e supporto alle imprese e ai professionisti per la compilazione della domanda di partecipazione. Riteniamo, ha aggiunto ancora il sindaco Battista, che questo della zona franca urbana possa essere un primo, reale passo a sostegno delle piccole attività presenti nelle aree del territorio cittadino perimetrato e uno sprone a nuove iniziative. Campobasso ha la necessità, infatti, di rilanciare il proprio tessuto economico che non può prescindere dal commercio.